Una dura cruciale e così siamo evidentemente sull'1-0 Passaggio fantaggio, prova il tiro, palla in fondo alla rete Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora Un tiro che ha disegnato una parabola perfetta, carica d'effetto Non ci ha pensato due volte, ha visto la porta, si è coordinato alla perfezione E ha colpito la palla in maniera perfetta, caricandola di effetto Una conclusione splendida E sono due, oggi non si ferma più Grazie 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 Grazie